Evviva, ho il mio certificato scolastico, ulei! Finalmente ragazzi, diplomato dopo anni, tre anni, e ragazzi, in questo video sono credo anche fiero di me stesso che, che sendo diplomato, per davvero, diplomato, potrò lavorare. E quindi con questo video concludo così, grazie per la visione, se vediamo un po' il suo video con Gabriel Dima è tutto, e se volete iscrivetevi al mio canale, o se volete, non è obbligatorio, attivate la campanella dei avvisi, anche se forse non mi importa mai niente di quello, campanella, lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video, commentate, e soprattutto, condividete con gli amici i suoi altri video, e se non possiamo video, ciao a tutti i ragazzi, ciao a tutti i ragazzi!